Dobbiamo adeguare l'altro grande buco che c'è stato, che è un adeguato sistema informativo, cioè il processo di digitalizzazione è stato quell'altro grande limite sul quale noi abbiamo a volte rischiato, non avendo a disposizione le informazioni nel tempo in cui dovevamo averle, una difficoltà anche nel rendere noto ai cittadini la reale condizione delle cose, il numero dei contagi che non rispondeva in termini di tempo adeguato a raccontare la puntualità. Abbiamo messo in rete le farmacie, i medici di medicina generale per le vaccinazioni? Il processo di digitalizzazione deve fare grandi passi in avanti, deve fare grandi passi in avanti. Grazie a tutti.